Saperi e sapori delle valli pordenonesi, siamo nella Val Cosa e siamo di trovare la trattoria vigna. Qui con me c'è Mirella Coledani che noi puntualmente ogni anno la veniamo a trovare perché ci interessa che veniate in queste valli pordenonesi, soprattutto nella Val Cosa perché perché un punto di riferimento per la cucina è appunto trattoria vigna e qua ormai da quanti anni Mirella siete qua? Centenaria, centenaria quindi bisognerebbe risalire un po' indietro comunque diciamo messa a nuovo dopo il terremoto negli anni 80. La gente si sposta facilmente sapendo di trovare un punto di riferimento per la cucina, tu hai la cucina tipica perché tra poco andremo a elencare i piatti che mi hai preparato con tuo figlio però volevo capire cioè in questi mesi dove il turista si muove ecco come ti stai preparando? Innanzitutto noi abbiamo sempre diciamo la nostra tradizione che è la selvaggina e vari piatti, cerchiamo di proporre in base alla stagione sempre qualcosa di nuovo per appunto incentivare un po' la clientela. Sempre un po' di innovazione? Qualcosa sì sempre, adesso abbiamo anche la pitina che facciamo dei crostini, poi di base c'è sempre il fricco, i formaggi. La pitina è praticamente il piatto di queste vali? Sì di queste vali esatto. Allora enunciamo un po' tutto quello che mi hai preparato, solo una piccola parte del tuo menù. Sì sì allora qui abbiamo il formaggio salato che è diciamo il formaggio che abbiamo noi la salina è fatto in proprio. Questo ve lo fate voi? Sì l'abbiamo noi. Poi il bacalà che lo facciamo tutti i venerdì, tutto l'anno e anche per trasporto, il minestrone che diciamo potrebbe essere un piatto sembrerebbe invernale ma comunque si mangia anche d'estate magari tiepido con le verdure che abbiamo il nostro orto. Cioè apre lo stomaco no? Sì diciamo, poi l'abbiamo la lepre fatta in salmì con la polenta, il fricco, il classico fricco solo con formaggio, a richiesta anche con patate e poi abbiamo la pitina di muflone e il pane che diciamo questo è inserito da poco perché è mio figlio che lo sta facendo in vari modi, questo è fatto con le erbe. Ecco il tuo figlio è giovane, fa parte della scuola alberghiera, il cambio generazionale insomma è nato? Sì sì esatto, si spera che vada avanti, insomma questo è l'intento. Non si spera, deve, deve, perché altrimenti queste zone qui se manca leno gastronomia il presidio territoriale non c'è più e la gente non sa più dove andare insomma. Infatti nella cucina noi inseriremo sicuramente adesso con lui diciamo tenere i piatti tradizionali della nonna, però anche la nuova cucina. Cioè la selvaggina, il formaggio salato, il baccalà, la lepre, tutte queste cose qua diciamo. La pitina di muflone, il frigo, sempre. Sempre e dopo inseriremo al menù anche piatti diciamo delle scuole. Perché vedi la fase era, dieci anni fa eravamo nella fase del conoscere, tutti andavano a leggere le riviste specializzate, seguivano le guide. Oggi è entrata la televisione nelle cucine, tutte le trasmissioni fatte soprattutto sui piatti, sulle nuove ricette, perché siamo nella fase due, nella fase del provare e tutti vogliono essere chef. Chi a casa, chi questo, giornalisti, vallette, fanno piatti, tutti fanno piatti, perché siamo nella fase due dove tutti provano e provano anche a dare o consigli o anche critiche, molto facili. Si cerca, magari uno non si sa, può magari prendere anche tramite la televisione qualcosa di interessante, provare, perché no? Allora questi giovani vedono di buon occhio adesso questa attività, perché vogliono misurarsi, vogliono provare. Si incuriosiscono. Il tuo figlio è uno di questi? Sì, beh lui sì, insomma ha la passione e è bravo. Anche perché posti di lavoro nell'industria si trovano sempre meno, perché hanno messo dentro le macchine, mettendo dentro le macchine non serve l'uomo. Non c'è più il manuale, manca il manuale vero. Mentre qui la cucina è fatta di artigiani, cioè questo è tutto fatto a mano. Adesso qua non c'è tutto, ma noi facciamo anche la pasta e i gnocchi fatti in casa, quindi impastati. Il pane mi ha incuriosito perché deve essere un pane molto gustoso. È buono, sì, è fatto con le verdure. Sicuramente il tuo figlio imparerà a fare quei piatti anche un po' creativi, innovativi. Sì, infatti dicevo appunto prima, sì, sicuro. Le ricette in un tempo in versione moderna, no? Esatto, esatto, questo è diciamo il nostro futuro. Senti, l'ultima domanda che ti dico, quale futuro avranno le valli portenonesi? Perché tutti stanno parlando, ma siamo in pochi a venire qua su a raccontare un po' queste valli, no? La Val Tramontina, la Val Cosa, la Val Colvera, la Val Cellina. Sì, il futuro è una bella domanda, cioè non saprei neanche rispondere. Il futuro veramente come sarà? Vedremo. Io spero che... Abbiamo tanta speranza. Visto che abbiamo l'UNESCO, le Dolomiti qua, che allargono un po' la zona, chissà, di inserire dentro anche le valli portenonesi. Bene, siamo giunti al termine. I vini, dai, facciamo la fine. Allora noi abbiamo il nostro vino che produciamo noi e poi teniamo l'etichetta comunque per qualsiasi gusto. Sì, regionale. Bene, ricordate che abbiamo un orto qua adiacente. Loro hanno un orto che è fondamentale, no? Perché l'abbiamo tenuto... È un giardino, non un orto. Un orto meraviglioso. Bene, siamo giunti al termine. Io vi consiglio, venite a trovare la trattoria vigna qui a Castelnovo, nella Val Cosa, perché merita veramente. Poi c'è anche in atto un cambio generazionale con un nuovo chef giovane, creativo e diamogli fiducia.